Ah, e sei collegato, vai! Allora, volevo semplicemente dire che quello che state visualizzando, sono stand band professionisti, non invitateli, perché sono attori, lo parlo da tempo, e... tutto qui, basta! E va bene, non ci inviti alla serata, già che ci siamo, eh? La serata è alla mia, adesso... Qua ci sono ancora circa 45 minuti di preparativi, però... Ce la faremo. Ce la faremo, sì, sì. Questo è il set. Saluta, saluta! Chiudi, chiudi, chiudi! A dopo!